un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale per prima cosa un ringraziamento speciale a sacrificio di re e quanti re mi avranno maledetto in questi anni di partite che è un nuovo abbonato alle mie video lezioni nel video di oggi una partita interessantissima giocata al secondo turno del gran swiss 2021 ricordiamoci che questo lungo torneo di 11 turni a girone svizzero è un torneo importantissimo perché assegna due posti al prossimo torneo dei candidati e cinque posti al fide grand prix che una serie di tre tornei che verranno giocati nei primi mesi del prossimo anno che assegnano altri due posti ai candidati 2022 nella sfida di oggi si affrontano il fortissimo francese maxima cilagrave di giovani iraniano tabata bay che involontariamente ci danno una lezione importante sul finale berlinese il finale più giocato e più studiato analizzato della storia degli scacchi eppure un finale che non si può giocare col pilota automatico oppure si rischia di commettere errori fatali partiamo maxivash da grav di bianco apre la partita con e4 aminta batta bay risponde con e5 cavallo in f3 cavallo in c6 al fiera in b5 siamo nella rui lopez l'iraniano con cavallo in f6 che sviluppa ed attacca il pedone centrale entra nella difesa berlinese a rocco corto linea principale del bianco allora il nero cattura col cavallo il pedone vasci da grav spinge al centro in d4 il cavallo è che sappiamo su questa colonne può diventare un bersaglio torna indietro in d6 minaccia l'alfiere l'alfiere viene cambiato sul cavallo si risponde ricatturando col pedone di dopo di per e5 questo pedone minaccia il cavallo che si dovrà spostare e questa manovra porta al cambio donne e dal famoso finale berlinese allora cavallo in f5 donna per donna con scacco il re ricattura fermiamoci subito questa è la posizione chiave dalla quale dobbiamo partire nello studio nell'analisi di questo finale quali sono le differenze chiave tra le varie differenze la struttura pedonale ci dice che il bianco ha il 4 contro 3 sul lato di re ed è proprio su questo lato dove vuole avanzare per vincere la partita allora tra le varie continuazioni c'è anche h3 che prepara le spinte di pedoni alfiere in e7 cavallo in c3 il cavallo si porta in h4 naturalmente il nero vuole il cambio dei cavalli cavallo per cavallo l'alfiere ricattura ora qui arriviamo ad un concetto fondamentale da tenere a mente come mai nessuno di bianco gioca g3 vediamo un po che succede dopo g3 non giocato da vashila grav l'alfiere torna indietro in e7 attenzione il pedone è rimasto sotto l'attacco dell'alfiere chiaro qui non bisogna giocare h4 altrimenti il bianco si ritrova con tutti i pedoni sul colore scuro del proprio alfiere e quindi bisognerà giocare g4 ma guardate un po che succede arriverebbe subito h5 che attacca ed indebolisce la struttura senza che il re bianco sia ancora ben posizionato il re bianco ancora indietro non riesce ad intervenire con successo allora ritorniamo a noi per questo motivo vashila grav gioca f4 e qui alfiere in f5 come si difende il pedone torre in d1 con scacco il re si sposta in e8 arriva la spinta in g4 l'alfiere sotto attacco si deve muovere ma naturalmente non si può catturare il pedone in c2 andiamo a vedere che succede perché dopo alfiere cattura in c2 torre in d2 attacca l'alfiere e l'alfiere non può più scappare perché l'unica casa libera è rimasta g6 alfiere in g6 f5 intrappola l'alfiere vince il pezzo allora dopo g4 l'alfiere torna indietro in c8 in precedenza era stato giocato alfiere in d7 quindi la partita alla mossa 14 diventa originale e ancora in totale equilibrio ecco che si muove il re bianco re in g2 h5 ma vedete che adesso c'è re in f3 quindi re arriva a contatto e salva tutta la struttura non solo c'è re in f3 bisogna proprio giocare re in f3 e invece vashla grav giocherà f5 e questa è una gravissima imprecisione siamo arrivati al nostro quizone cosa dovrebbe giocare secondo voi il nero mettete pure in pausa se volete e da voi la parola ritorniamo subito a noi perché il nero deve assolutamente giocare g6 che minaccia di spezzare e la spezzerà la catena pedonale perché il pedone non può avanzare in f6 oppure si perde g4 invece che cosa è successo dopo f5 grave errore arriva un errore gravissimo che non sfrutta questa incertezza alfiere in e7 sembra una mossa dannosa invece queste sono posizioni estremamente complicate il re si porta in g3 h per g4 il pedone a caricatura arriva lo scacco di alfiere in h4 allora il re si sposta in f3 l'alfiere di nuovo in e7 per lasciare la colonna h alla torre ma il bianco completa lo sviluppo alfiere in f4 arriva adesso g6 ma vedete che non fa paura perché adesso il bianco può anche avanzare con il re che protegge g4 può anche avanzare il pedone in f6 e invece vashila grav trova qualcosa di ancora più preciso arriva torre in d che va in h1 e questo è un concetto che abbiamo visto spesso il grossissimo problema del nero e che non ha i pezzi pesanti connessi quindi in caso di cambio il bianco con la seconda torre dominerà totalmente la colonna h infatti tabata bay non cambia andiamo però a vedere che succede se il nero cambia le torri torre per torre in h1 la torre ricattura g per h5 torre in h8 con scacco ora come si copre questo scacco alfiere in f8 perde di botto perché arriva alfiere in h6 che vince il pezzo inchiodato allora dopo torre in h8 con scacco il re deve scappare in d7 g per f5 ha recuperato il pedone perché vedete il re sta anche ostruendo l'azione dell'alfiere non solo per il computer la posizione più 6 perché il nero sta giocando con due pezzi in meno si può sicuramente tentare di liberare la torre arriva a 5 e il bianco però con i pezzi che possono giocare centralizza il cavallo cavallo in e4 b6 alfiere in g5 alfiere in b7 si è liberato la torre ma la torre del bianco domina la settima traversa allora torre in f8 a proteggere il pedone arriva e6 con scacco pedone intoccabile perché si perde il pezzo il re deve andare in e8 cambio degli alfieri in e7 il re ricattura cavallo in g5 casca sicuramente f7 e con due pedoni passati e connessi particolarmente avanzati la nostra analisi finisce qui perché il bianco sta vincendo la partita allora ritorniamo a noi dopo torre in h1 tabata bay non cambia le torre gioca torre in g8 arriva solo adesso f6 l'alfiere sotto attacco si porta in b4 ora attenzione perché questo è l'unico errore che può rimettere in gioco il nero il bianco naturalmente non deve farsi creare il danno strutturale infatti vasce da grave centralizza il cavallo in e4 allora alfiere in e6 a3 attacca all'alfiere nero alfiere in a5 cavallo in g5 qui naturalmente se si crea il pedone passato è finito è finita scusate l'alfiere si sposta da pure l'infilata arriva infatti alfiere in d5 con scacco incredibile ma anche il guadagno della qualità non salverà il nero allora il re si sposta in g3 alfiere per torre la torre ricattura ora attenzione perché la terribile minaccia qual è è giocare e6 e se il pedone cattura arriva f7 e guardate che forchetta di pedone allora torre in f8 toglie la torre dalla minaccia di forchetta ma la torre di vasce da grave domina la settima traversa torre in h7 alfiere in d6 cosa vuol fare tabata bay vuol giocare alfiere in d4 e attaccare il pedone quando il bianco giocherà sicuramente e6 la scena grave glielo impedisce giocando c3 allora il nero porta in gioco la seconda torre torre in d8 arriva la spinta in e6 terribile la minaccia di e7 allora la torre si sposta con scacco torre in d3 con scacco ritorniamo indietro qui che succede oltretutto se si cattura il pedone f cattura in e6 torre in e7 scacco matto quindi pedone intoccabile ritorniamo a noi quindi una delle due torri si sposta con scacco ma il re del bianco si sposta su casa chiara non ci sono più scacchi allora arriva alfiere in e3 qui si minaccia di vincere un pezzo ma vasce da grave giustamente lo lascia in presa e gioca e7 come mai non si può catturare l'alfiere andiamo a vedere che succede alfiere per alfiere il pedone cattura la torre promuove a donna con scacco e qui c'è scacco matto sicuramente in due mosse perché se il re cattura vedete che il pedone gli ha creato il muro torre in h8 scacco matto e anche se il re scappa re in d7 è la torre che cattura ed è di nuovo scacco matto allora per questo motivo non si preoccupa del materiale vasce da grave gioca e7 torre sotto attacco si porta in g8 ma arriva l'ultima mossa cavallo cattura in f7 libera la strada anche al secondo pedone tabata bay abbandona giochiamo ancora qualche mossa perché dopo alfiere per alfiere il cavallo si sposta tanto la mossa vincente f7 guardate lascia in presa si può tranquillamente lasciare in presa un nuovo pezzo perché anche dopo alfiere per cavallo in g5 arriva f7 con scacco anche se il re cattura il pedone cattura la torre diventa donna e la partita finisce qui quindi una berlinese interessantissima io spero proprio che questa partita vi sia piaciuta e che vi rimarranno in mente molte idee per le vostre partite se la partita vi è piaciuta non scordate like ma soprattutto non scordate di iscrivervi al canale grazie tante per ascolto e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video a presto grazie